Quante volte ho portato i due o quattro anni Rexy, Rexy potrà fare le prove di notte perché sarà a Castiglion Fiorentino, se lo manderanno a passare per le visite e tutto farà esperienza e poi penso di portare Rocco Ro, tu e Galana e poi gli altri li porta a Agosto. Cioè Patos che ha già corso non ci sarà? No, le porterò a Agosto perché come condizione erano più avanti questi altri due, ho detto allora gli farò fare, tanto io gli faccio fare un paio l'anno a tutti se ce la fa, quindi questi altri due andranno ad Agosto e questi vedranno se correranno a Luglio. Qualcuno diceva che Patos non l'avreste montato e per questo non lo porti? Ma tanto le persone possono anche chiacchierare, il cavallo lo porta a Agosto, sta a casa, quindi non lo può sapere nessuno se avrà montato o no. Ma poi io ti do la verità, guarda io non è che sono geloso dei miei cavalli, io porto cavalli e li tengo perché poi il mio lavoro mi garba a tenere, la mia passione, quindi se vanno a far paglio lo vincono, io sono contento, non è che sono scontento, perché vuol dire che ho lavorato bene e i cavalli stanno bene, poi se riesco a montarli io sono più contento, però non è che se un cavallo mio vince e poteva fare l'altro anno nel Drago io ero scontento, ci mancherebbe il contento. Io mi ci diverto, ci vengo volentieri, vengo a Mociano, a Monticiano, rifarò le prove di notte in piazza, io mi ci diverto, mi garbafalle le faccio. Penso che Patos ha debuttato l'altro anno, quant'anno aveva? Meno. Meno di che? No, perché c'è un anno in più, verrai Patos, se lo metti a confronto, voglio dire, alla fine Patos non ha nove quest'anno, ha debuttato a otto, ma poi non c'entra, il cavallo deve correre quando è pronto, se sarà pronto a agosto io lo porto se lo vogliamo prendere, il cavallo può correre il paglio, non è che io lo porto e non è pronto. Penso che sì, questo è vero, ci saranno meno punti di riferimento, però poi sarà una scelta, dovranno fare anche i capitani, tutti penso che si porterà cavalli che ci sembra più opportuno portare, siamo pronti, il Rocco-Roc può essere un cavallo che il paglio lo può fare, può essere un cavallo che anche se è al debutto può fare il suo paglio, Tuegalano è una cavallina che intanto farà le prove di notte e la tratta, però è una cavallina che ha dimostrato di essere una cavallina ferma al canape, che parte e che ha le qualità per poterla fare, può essere riterranno di farla maturare un'altra prova, va benissimo e poi vedremo, io penso che in tutti i lotti ci sarà sempre chi è un po' meglio e chi è un po' peggio. Siamo ormai a una buona metà della previsita, come è stato trovato lo Stato Generale dei Cavalli? Diciamo che sono tutti apparsi in buone, ovviamente come deve essere in buone condizioni fisiche, quindi c'è un riscontro abbastanza positivo. Il Sindaco ha parlato di un parco cavalli particolarmente ampio, la qualità di tutti quanti è da palio? Sì, ma rispetto agli altri anni per me abbiamo, anche grazie alle scelte fatte dai capitani che hanno introdotto in piazza cavalli giovani, adesso possiamo contare su un parco di cavalli adatti alla piazza buono. Nella maggior parte sì, andranno sicuramente tutti alla tratta, come è previsto, se abbiamo qualche dubbio magari li rivedremo in piazza prima, insomma nelle prove, però diciamo che mediamente abbiamo un buon riscontro anche in quell'ambito, insomma nei famosi senatori. Quindi a mio avviso ci sarà la possibilità di scegliere diverse tipologie di lotti, insomma sulla base dei cavalli che abbiamo disponibili. Ci sono dei cavalli per i quali sarà richiesto il serio impegno, specialmente cavalli magari in cui dobbiamo verificarli dal punto di vista anche del sanitario. Diciamo il fatto di non fare il cambio di monta, sì, può essere alla fine anche utile. Avere un gruppo, uno staff di veterinari ormai da lungo tempo, sempre insieme, aiuta nella decisione e nella valutazione dei cavalli questa intesa? Io devo essere sincero diciamo con l'attuale gruppo, non è che negli anni poi sia cambiato molto, nel senso che abbiamo avuto sin da subito un certo affiatamento che ci ha consentito di portare avanti le decisioni che talvolta anche discusse ma comunque poi decise in piena concordanza. Quindi è comunque un gruppo affiatato sicuramente, però diciamo lo è stato già dall'inizio. Io parlo per me ma penso di esprimere anche il pensiero degli altri, diciamo questo è un tipo di esperienza che ti riempie dal punto di vista umano, dal punto di vista emozionale e non ci sono esperienze che possono essere paragonate. Io per esempio magari ho partecipato anche all'Olimpiadi che è comunque un'esperienza molto importante ma almeno per come lo posso dire io, per come vivo il Paglio di Siena non c'è paragone. Al ceppo con Luigi Carrus, con una grigia, tonina, spiegaci, raccontaci un po' che cavalla è. È una cavalla presa l'anno scorso, è arrivata e niente, la cavalla è una figlia di Gruntese, cavallina si è presentata bene quest'anno in provincia, sembra che sia adattata abbastanza bene, bravissima, una cavalla fredda, una cavalla che non è calda, una cavalla secondo me ideale e anche molto pronta per effettuare il discorso del Paglio. Adesso le previsite e poi magari le prove di notte? Sì, le prove di notte e poi eventualmente la tratta. Come arrivi te invece personalmente a questo Paglio di Luglio? Quali sono le tue speranze? Ma senti, io come arrivo? Io arrivo carico, molto carico, allenato, soprattutto allenato e poi spero di fare una bella tratta e poi quello che viene si prende. Ormai qualche anno che sei a Siena hai capito bene o male come funziona il Paglio, insomma, no? Perché comunque un ragazzo che viene da fuori non è facile, no? Per niente, per niente, specialmente un ragazzo arrivato alla Sardegna si deve fare, si deve costruire tutto quando arriva a Siena. Già lavorare con tante persone, ho avuto la possibilità di lavorare con Massimo, il Milani comunque sia un po' di esperienza, un po' di mestiere, me l'ha insegnato e quindi anche già da quello ora che magari mi sono messo anche un po' per conto mio mi ha fatto tanto bene, mi ha fatto tanto bene anche per crescere per capire proprio come funziona il Paglio e proprio come funziona tutto l'insieme dell'ambiente di Siena. Infatti sappiamo che non sei più da Massimo, no? Da qualche tempo. Sì, ho avuto questa opportunità di andare alla scuderia di Remolcarli e niente, ora sono lì, poi a settembre avrò la possibilità di prendere una scuderia anche un po' più grossa. Una scuderia da cui sono venuti anche cavalli importanti, no? Sì, soprattutto sembra che porti abbastanza fortuna quel posto, ho l'acqua di San Giorgio all'Api che fa bene, comunque anche consigli di Remolcarli, sai una persona che c'è tanti anni nei cavalli, ha avuto cavalli importantissimi per il Paglio, il discorso del Paglio, quindi è anche bello stare a contatto con certe persone perché... Ti danno delle... qualcosa, eh? Sì, 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 ti danno degli stimoli, ti danno una carica, ti danno i consigli che a volte servono, ecco. Francesco Caria ha detto tremendo al ceppo con sei cavalli, tutti presentati veramente bene, complimenti per come li hai portati. Grazie, sì, sì, dai, i cavalli abbiamo cercato di presentarli al meglio per poter fare questa nuova carriera. Sei soggetti, ovviamente spicca Prezzosa Penelope, però ci sono tanti altri che possono dire la loro, no? Sì, sì, dai, sono tutti i cavalli che in provincia si sono sempre messi in evidenza e quindi ora bisogna vedere come rifanno in piazza, se riconfermano quello che hanno fatto vedere in provincia, poi la scelta sta ai capitani. Si pensa ad un lotto livellato, hai paura e Prezzosa Penelope possa essere lasciata a casa? Sì, come ho detto in altre occasioni, il mio compito era portarla in ordine oggi, poi tutto il resto viene da sé, insomma. Francesco Caria, invece, quali sono le ambizioni tue personali? Le mie ambizioni sono di rimettere un giubbetto, di rientrare nel gioco e di rientrare in maniera importante. Ci sono possibilità? Qualche incastro si può creare e vediamo un po' cosa succede il 29.